Quella sporca ultima rete La sigla Ma cos'è? Beautiful Ma cos'è? Sei pazzito Io faccio Brooke Ma cos'è? L'ha fatta apposta L'ha fatta apposta Era tutto programmato Ma tu chi sei Labo? Sei Ridge Signor Parester vuole fare una dichiarazione? Non c'è nessuna dichiarazione da fare Con questa sera il Manchester esce ragazzi Io avevo detto che una tra Barcellona, Inter e Manchester usciva Di conseguenza Barcellona, Inter sono passati E anche il Manchester Ho vinto qualche cosa? Una maggiorata rischia di soffocare il proprio compagno Lui ora la teme Che paura Riaprite tutto Si aprono un po' i nuovi fascicoli eccetera eccetera Apri e chiudi Sempre apposta Io e Salvatore Rina Agli occhi della legge siamo uguali Quando arriverà saranno veramente Cacchiamari per tutti gli altri Però sempre Ultimamente stai trovando delle terminologie Germana che L'arresto immediato seduta sta Allora Fabio Visto che sei milanista Partiamo dall'Inter Giusto Bello È molto interessante Si è E fatti una risata E fatti una risata Ma dammi una risposta Sì vabbè però se non ridi Vedete come siamo Messi A proposito di Messi Parliamo di Messi Lapucci A proposito di Messi parliamo di Messi No visto che ho detto vedi come siamo Messi È tutto un gioco di parole Wow ragazzi È troppo brava È troppo brava esatto È troppo brava Bravo Lapucci No brava più tu No più brava tu Germana Veramente Buona serata Anche a te Germana Speriamo che tu passi una meravigliosa serata Grazie mille In ottima compagnia Perché tu te lo meriti come donna Grazie La messa è finita Andate in pace Grazie a tutti